Bentornati sul canale di un appunto di questo blog, io sono il Gons e oggi siamo qua a fare la recensione di Captive State Prima del primo contatto, combattevamo fra di noi C'era bisogno che gli alieni ci mostrassero una via migliore Ci proteggono dall'anarchia Armonia, pace E' una bugia, si prendono tutto Se ci ribelliamo, c'è una possibilità Film che abbiamo già recensito sul sito nergasmo.it Il buon taglia era stato all'anteprima stampa Ora a me è arrivato il Blu-ray di CG Entertainment E ho deciso di fare una mini recensione, o comunque darvi un mio parere su questo film Avevo sentito parlare molto bene di Captive State Ed ero deciso a vederlo prima o poi L'occasione mi si è presentata e l'ho guardato Devo dire la verità, inizialmente non mi aveva preso moltissimo E' un film che comunque ci mette un bel po' in granare Deve costruire tutti i pezzi della storia Siamo di fronte a uno dei temi che io amo di più Cioè l'invasione aliena Anche se spesso vediamo film abbastanza brutti Che parlano di questo tema L'invasione aliena è anche un incubo ricorrente Che ho avuto Adesso non mi capita da un po' Però mi è capitato spesso Mi ricordo ancora l'ultima volta che ho sognato un'invasione aliena E in questo sogno ero in giro a farmi i cavoli miei con i miei amici E a un certo punto sento dei rumori Mi giro e vedo in cielo queste astronavi Che ora non ricordo neanche come erano fatte Enormi Che volano E sono tantissime Sono tantissime enormi E un senso di panico mi ha colpito in quel momento Perché il sogno era molto realistico E poi mi sono svegliato e ho detto Figa che sogno Pesante Perché poi arrivano gli alieni Non è che sono Puoi dire vabbè sono buoni Gli alieni non sono buoni Dai Si sa Quindi amo tantissimo i film catastrofici Sulle invasioni aliena Questo è un film che da subito vi fa capire Che siamo in questa ambientazione Infatti la trama dice così Dieci anni dopo l'invasione extraterrestre Il mondo è governato dagli alieni Gli umani si dividono in due fazioni Coloro che accettano il nuovo governo E coloro che invece si oppongono dando vita alla ribellione Captive State è un film diretto da Rupert Wyatt del 2019 Con John Goodman Eccezionale Aston Sanders Jonathan Mayer E Vera Farmiga Vera Farmiga sapete chi è insomma Quella dei congiuri Devo dire che l'ambientazione mi è piaciuta molto Perché è molto realistica Gli alieni hanno usato gli esseri umani Per quello che sono In parte esseri subdoli Esseri paurosi Esseri che insomma Sacrificherebbero gli altri Per salvare se stessi Questa è un po' la natura umana No? Ma ci sono anche esseri umani Che appunto invece Sacrificherebbero se stessi Per salvare gli altri E questi sono i famosi ribelli Che più che sconfiggere gli alieni La cosa interessante qua È che si cerca di non far morire la speranza Perché si sa che gli alieni sono venuti Per consumare tutte le risorse della terra Per poi andarsene Quindi il pianeta rimarrebbe inutile E la razza umana si estinguerebbe Questi protagonisti sono due fratelli Un fratello grande che è il capo dei ribelli E un fratello piccolo che ne rimane fuori Ma chiaramente vorrebbe farne parte In qualche maniera Il tema veramente interessante di questo film È proprio il fatto di voler Tenere accesa la speranza I ribelli vogliono fare un attentato Molto eclatante Che si faccia notare In modo che le persone sappiano Che la partita non è finita E si può ancora combattere contro questi esseri Il film è fenomenale È uno dei migliori film che ho visto Adesso non vorrei esagerare Però è veramente uno dei migliori film Che ho visto negli ultimi anni Uno dei migliori film di fantascienza Ed è un film che io ritengo Anche un filino horror Perché vi dico questo? Gli alieni sono rappresentati come dei villain Come dei mostri Sono anche abbastanza originali Come sono stati realizzati Non ve li spoilero Sono intelligenti chiaramente Ma sono anche mostruosi Comunicano con dei versi Che fanno paura Sono versi che sono fatti per spaventare Infatti ci sono un paio di momenti In cui fa anche abbastanza paura L'alieno quando arriva Quando aggredisce Diciamo i protagonisti In più c'è questo tema Del soggiogare la razza umana In maniera subdola Che mi ha ricordato tantissimo Essi vivono di John Carpenter In quel film Gli alieni si mascheravano Si nascondevano in mezzo alla gente E tramite messaggi subliminali E ricoprendo posti di potere All'interno della società Sfruttavano gli esseri umani Diciamo In questo caso Non ci sono messaggi subliminali Le cose sono chiare per tutti Però anche in questo caso Gli alieni usano un metodo subdolo Per mettere sotto la razza umana Cioè usano gli stessi esseri umani Che diventano il loro lacchè Il loro braccio armato Per tenere tutti buoni Tutti schisci Insomma quindi Ci sono delle analogie incredibili Nel senso che comunque La storia di base è la stessa Sono gli alieni Che sfruttano e usano gli uomini Nel film di John Carpenter Si sottolineava molto Il fatto che le persone Non si stanno troppo a chiedere Cosa c'è dietro alle cose E quindi c'era tutto il discorso Del messaggio subliminale Del controllo delle masse Era una denuncia Verso il governo Verso il governo americano Verso tutti i governi Che comunque Questi giochini li fanno Questo periodo poi Non ne parliamo Anche peggio Da quando ci sono i social network In Captive State Anche lì c'è il tema Del controllo Della popolazione Da parte del governo Da parte degli alieni È un film politico È un film Che ti manda un messaggio Il messaggio è sempre quello Di non accettare tutto Per quello che è Non pensare che le cose Non possano essere cambiate Perché sono troppo difficili da fare Poi c'è il tema dell'eroismo Che a me piace molto Perché comunque Gli eroi Nella realtà Sono esistiti Quindi Non stiamo parlando di fantascienza Cioè stiamo parlando di fantascienza Ma non stiamo parlando di cose irreali Questo è un film Che ci dimostra Quanto Per l'ennesima volta E fino a che Insomma Vivrà Questo grandissimo attore Ci dimostra Quanto John Goodman Sia Una presenza Nello schermo Mostruosa Veramente Una prova incredibile John Goodman È il protagonista Di questo film Alla fine Anche se voi vedete Ragazzo Ci sono tanti protagonisti Ma John Goodman È il protagonista Di questo film E fa un personaggio Meraviglioso Perché è veramente Sfaccettato C'è un messaggio Molto bello Sul finale Che ho trovato Anche molto commovente Che non vi dico la scena È un messaggio Che ti dice Che cosa è giusto Che cosa è giusto fare Che cosa è giusto Salvaguardare Nelle nostre vite È veramente un film profondo È uscito da poco Lo trovate sul sito Di CG Entertainment Vi metto comunque Il link qua sotto Per acquistarlo È uscito da poco Long video Di Captive State In questo fantastico Blu-ray Troviamo anche Ci sono tre interviste E poi c'è il making of Davvero fatto molto bene Perché si vedono Gli attori sul set Che parlano E vedi proprio Come si parlano Durante le riprese Molto carino Ultimo tema Per me Questo qui È un film Sì di fantascienza Però Per me È anche un po' Horror Perché Gli alieni Sono alieni Spaventosi Quindi Sono anche Diciamo Costruiti In maniera Da incutere paura E quindi Esattamente Come Essi vivono Viene definito Un film horror Diciamo Cioè Un film Di fantascienza Horror Action Anche questo È un film Action Drammatico Thriller Horror Insomma Ci sono un po' Di genere In questo film Vi consiglio assolutamente Di vedere questo film Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Cliccate sulla campanella Per ricevere le notifiche Mettete like E lasciate un commento Se volete Potete seguirci anche su Instagram Questo è tutto Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima